Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Darifest. Siamo qua nel secondo e ultimo giorno a Cremona Fiere per il nostro primo evento da espositori. Abbiamo uno stand, siamo al Japan Show grazie al Pet Festival, siamo insieme a loro nello stand. Volevamo un attimo farvi un recap di queste due giornate che sono state pazzesche, è stato molto pesante però una bellissima esperienza. Poi in vista di ottobre che abbiamo l'evento quello più importante che è il Pet Festival, è stato un giusto rodaggio. Ci siamo divertiti, abbiamo portato qua un acquario marino che non era molto a tema però l'abbiamo reso appetibile alla clientela, visto che abbiamo fatto di mano nostra quello piccolino con dentro un bonsai, poi uscirà un video a riguardo, mentre quello grosso che è stato finanziato grazie Rift Joker e grazie Rift Tech, con per l'appunto la struttura, la vasca e tutti i supporti di Stefano, Rift Tech, dentro l'acqua le rocce e gli animali che sono spaziali, soprattutto il Cerianthus, di Rift Joker. Beh la fiera sicuramente non è grandissima come sarà invece Pets Festival, però come tutte le fiere a tema è molto particolare, soprattutto la cultura giapponese è super affascinante, ci sono un sacco di cose interessantissime, abbiamo girato per vari negozi, abbiamo visto bonsai, un sacco di kokedama, anche di workshop dove li facevano perché facevano fare anche i kokedama alle persone, un sacco di animali interessanti, c'è stata l'Italian Koi Expo dove abbiamo visto un sacco di esemplari di carpa bellissimi, abbiamo visto anche l'esemplare che ha vinto. Comunque una fiera, tutta da record perché c'erano tantissimi animali premiati, pluripremiati, partendo dai cani oppure per queste carpe qua. In più abbiamo visto un sacco di oggetti inanimati che fanno parte della collezione del consolato giapponese, abbiamo avuto la fortuna di poter ammirare dato che sono stati portati qua da appunto il console giapponese. Chi è venuto qui ha fatto l'inaugurazione, ha fatto il taglio del nastro sabato mattina, quindi il primo giorno in mattinata, è stato anche molto bello vedere questo tipo di cerimonia. Inoltre anche il pranzo ovviamente è la tema giapponese, quindi ho preso una pizza. Per quanto riguarda la nostra esperienza in particolare, visto che avevamo solo l'acquario marino da poter portare, non avevamo una grande utenza, però abbiamo trovato tanti appassionati di acquariologia, non molti del marino, però sicuramente sarà un altro livello a ottobre, quando speriamo di incontrare molti di voi. Comunque molte persone che hanno un acquario, che sono all'interno di questo hobby per scambiarci pareri, confrontarci, passare comunque delle giornate insieme. In particolare nel nostro stand abbiamo portato due vasche, una come diciamo prima realizzata in collaborazione con Rift Tech e Rift Joker, mentre l'altra realizzata totalmente da noi con tutti i materiali riciclati che avevamo in casa, avanzi di cemento e altri materiali che abbiamo riciclato, abbiamo usato la chetomorfa, abbiamo usato delle taglie di coralli che già avevamo. Ho preso il briareum, ovviamente vi faremo un video dedicato alla realizzazione di quella vasca, dove vi mostreremo tutto il processo di realizzazione che ci ha portato poi al risultato che vi stiamo mostrando. La vasca principale, che era quella più grande, invece, abbiamo portato tre rocce e con quelle tre rocce siamo riusciti a fare un escape abbastanza carino per coralli molli, che ci sembravano quelli più sicuri da portare in fiera. Abbiamo evitato i pesci per non stressarli più di quanto non lo siano appena arrivati dal mare. L'animale che ha attirato sicuramente più interesse da parte della gente è stato il Cerianthus. Anche, secondo me, gli altri coralli molli, che personalmente non sono i miei preferiti, messi in questo escape, in questo contesto, illuminati nella maniera giusta, hanno creato un bel acquario, assolutamente. Non lo terrei in casa mia, perché sapete, è la nostra passione. Però, per uno alle prime armi, questo potrebbe essere un buon risultato. Come esperienza è stata super gradevole, un caldo tremendo, infatti a ottobre speriamo non faccia così caldo, ma se ci saranno 32 gradi a ottobre ci sarà qualcosa che non funziona. In ogni caso ci rivediamo a Pets Festival a ottobre, ovviamente noi ci vedremo con altri video nel mentre. Vi ricordiamo, come sempre, di seguirci su tutte le nostre pagine social, quindi Instagram, YouTube e Facebook. E noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!